Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono rallentamenti tra la Strassignia e Firenze-Viadotto dell'Indiano in direzione Firenze. Fare inoltre attenzione per la pioggia che sta accadendo lungo tutto il percorso. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero rallentamenti per un incidente avvenuto a 400 metri dall'inizio della variante di Ponte a Moriano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteligioni e Siena in direzione Siena. Sulla Statale 2 Cassia tratto chiuso per lavori al Ponte del Paio tra Radicofani e Abbadia San Salvatore. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori di rifacimento del piano viario in piazza della Costituzione chiuso il ponte sul Mugnone fino al 15 settembre. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!